salve sono jessica e sono qui per presentarvi la box che è l'idea da cui siamo partiti per creare squisitali la nostra chef ci mostra passo dopo passo con un video come prepararla ma soprattutto dentro la box troviamo gli ingredienti selezionati e i segreti degli chef tutto nella vostra cucina vi divertirete il risultato sarà squisito anzi squisitali grazie